L'importante è arrivato Gilles. Abbiamo trovato questi due gol subito dietro l'alto e abbiamo dato una stessa strada alla partita. Insomma è normale, giochi contro l'Inter, grandi campioni, dovevamo alzare il nostro livello di qualcosa in più e oggi veramente la squadra è stata fantastica. Penso che abbiamo tutti fatto una gran partita e questo è il risultato. Forse la prima, perché era molto veloce, però sono contento che sono tre punti portanti che varanno doppio se riusciamo a fare qualcosa in casa a Macedì. E' stata la tua miglior prestazione come sei a Bologna, come vittoria, come contesto? Vabbè, il contesto, tutto, vittoria a San Siro, vinci a San Siro con l'Inter, non prendi golle e giustamente è la serata perfetta. Questa nuova difesa del Bologna, questo set a tre, con l'Inter 5, mi ha cambiato un po' e il fatto che ti sia protetto anche da Perez-Mudinga ai davanti. Ti ho lì, ha ridisegnato la squadra. Sì, secondo me abbiamo trovato i nostri schemi di gioco, i giocatori sono al posto giusto, gli stanno facendo le calls per bene, adesso non dobbiamo mollare perché non dobbiamo riposarci perché dopo arrivano le bastonate, però secondo me questa disposizione in campo è perfetta per noi. Per esempio, tranquillo, da Tere che davanti ai tre ci sono due come Perez-Mudinga ai, ti dà trascinare anche a Tere. Sì, sì, ma è tutti insieme, è una fase difensiva importante, soprattutto anche la mentalità, la mentalità di tutti i ragazzi, al di là della disposizione, dei schemi e tutto, però la testa è fondamentale. Quale chiede è stato fondamentale all'inizio? Posizionato bene, bravo di posizione. Sì, no, ma l'ho allargato il piede. Vabbè, se volete è arrivato a DOS, così la volete un po' con il Dio. L'allargato è una parata vera. Sì, no, ma non c'è un problema. Porta anche l'on'entrata, non importa. Vabbè, come ho detto prima, la fondamentale non è andare sotto, perché quando vai sotto una squadra comunque arrabbiata, perché comunque con il Novara hanno fatto 20 tiri in porta e hanno perso. Contro queste squadre qua, quando giochi in trafferta, se vai sotto, diventa tutto più difficile. Ti devi scoprire per provare a pareggiare e rischi di prendere il secondo. Vedi, tu sei sincero in tutto, domani leggi i voti sui giornali, però dattelo anche te. Puoi dare un voto, agile. No, se vuoi darvi i voti, non so. Basta sette. Com'è? Basta sette questa sera. Sì, non importa. Cinque? Eh? Quattro? Se volete, i portati abbiamo vinto. Non vuoi che se a sera sembri anche più alto, visto che le critiche sono di un anno? Sì, forse, ho messo i tacchetti alti. Va bene, ragazzi. Grazie. No, vedo che la cosa sta sciolta. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.